Rett sta come tutti quelli che commettono un errore, perché poi non l'ha commesso soltanto lui l'errore. L'ho commesso anch'io a chiedergli di giocare sempre la palla con i piedi, anche se lui qualche volta la vorrebbe buttare più via, perché è una questione sempre di impostazione mentale di quello che si vuole andare a chiappare, di quello che si vuole realizzare. Secondo me il portiere se non lo è già diventerà un calciatore di un movimento, non è come dicono che il portiere deve parare, il portiere deve anche costruire, a volte non piace la parola costruzione, il portiere deve iniziare l'azione come fanno i difensori, perché ormai tutte le squadre, non lo dico io che io sono una persona anziana, ma questi allenatori giovani che ci sono, che sono venuti anche qui a giocare le partite, ormai fanno tutti allo stesso modo, all'estero fanno tutti allo stesso modo, ti vengono addosso e fanno uomo contro uomo, in questo venirti addosso non c'è possibilità di cominciare l'azione in maniera facile da un punto di vista difensivo, per cui hai bisogno della collaborazione del portiere, cercano tutti il portiere che è bravo con i piedi a giocare, gli allenatori forti, gli allenatori bravi, non io, però cercano il portiere che è bravo con i piedi, per cui è una condizione che si allena, è una condizione che si fa per andare a giocare da una parte e portare la palla dall'altra, e nel fare questo, o nel migliorare questa qualità, c'è dentro il poter sbagliare qualche palla, il poter perdere quel decimo di secondo di più, e quindi è un errore come tanti, per cui il primo errore l'ho fatto io a chiedergli di fare questo, a sforzarlo di fare questo, poi probabilmente anche qualche suo compagno vicino si doveva far vedere quando ha visto che era attaccato dal calciatore per andare a ricevere palla, perché lui era nelle condizioni di doverla giocare in quel momento lì, per cui anche qualche compagno di squadra è chiamato in causa, oltre che me, in questo suo errore. E poi ci sono quelli che dicono che dovevano recuperare prima la palla senza far essere calcio di fondo, siamo tutti coinvolti insomma, è calcio di rinvio, siamo tutti coinvolti e il calciatore ha lavorato nella maniera corretta, come doveva calciare e lavorare, e poi domani per quanto riguarda la formazione, siccome sono due portieri forti può essere riscelto lui o può giocare all'altro.